Iva Milkovic, una partita praticamente non giocata, come si può commentare questa semifinale? Vorrei dire che l'abbiamo regalata, ma comunque hanno giocato molto meglio rispetto a noi in tutte le parti del gioco. Purtroppo la voglia c'era, l'energia c'era, però comunque ci siamo trovati davanti a un muro, davanti a un ostacolo che questa volta non siamo riusciti a superare. Che cosa sta succedendo, Ivan, alla Lube? Perché fino alla sosta la squadra volava, poi non la riconosciamo più. Quello che era prima, era prima. Secondo me bisogna guardare quello che sta succedendo adesso e purtroppo non sta succedendo niente. Quello è un problema più grave, che non riusciamo a reagire, non riusciamo a trovare il nostro gioco. Non solo io, non solo alcuni giocatori, ma tutta la squadra che in questo momento sta cercando di far girare qualcosa, ma purtroppo non gira niente. Anche questa maniera di arrendersi, abbiamo visto sempre la squadra lottare in tutta la stagione. Questa non è la mentalità giusta. Sono d'accordo con tutti che praticamente non reagiamo, non lottiamo per ogni singola palla, perché partiamo da ogni palla della partita. Prima c'erano delle cose diverse, adesso non è cambiato niente, però purtroppo, come si è visto in campo, sono cambiate molte cose. Proprio il problema più grande quale sia non lo so, non lo so dire in questo momento. Ci dispiace a tutti di non essere alla nostra, diciamo, altezza, ma comunque questa è la realtà in questo momento. Adesso bisogna dare comunque un senso e una speranza a questa stagione, no? No, la speranza è sempre per l'ultima. Sì, giochiamo un'altra partita domani, spero che alcune cose cercheremo di cambiare. Almeno abbiamo una partita prima della terza partita dei play-off. Grazie.